E' stato individuato il ragazzino che nell'ultimo periodo si è reso protagonista talvolta insieme ad altri di diverse rapine ad esercizi commerciali di Manfredonia. Si tratta di un tredicenne individuato subito dopo aver messo a segno una rapina ad un esercizio commerciale del centro Sipontino. Il ragazzo, approfittando dell'imbrunire e della presenza delle sole commesse con il volto coperto e armato di una pistola, era entrato nel locale, fuggendo subito dopo con il registratore di cassa con all'interno l'incasso della giornata. Dopo essere stato fermato, gli investigatori hanno accertato che l'arma, risultata poi essere una scaccia cani senza il tappo rosso, era stata vista nei filmati delle telecamere di videosorveglianza di altri esercizi commerciali della città, rapinati. Alla presenza dei genitori a cui è stato affidato il minorenne, non ancora imputabile per l'età, ha ammesso di aver compiuto altre rapine a Manfredonia, tra cui quelle ad alcune cartolibrerie. Il ragazzino in lacrime ha raccontato di aver commesso queste rapine per futili motivi. Alla presenza dei genitori a cui è stato affidato il minorenne, non ancora imputabile per l'età.